e 80 3 70 3 70 3 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 Ciao ragazzi grazie grazie di essere qui con me oggi 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 finalmente dopo anni di richieste ho deciso di fare un video dedicato esclusivamente a un countdown a un conto alla rovescia partiremo da 100 e ovviamente sarà mirato da del brushing 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 e anche un pochino di word repetition quindi 100 100 100 in questo modo io spero davvero questo video vi piaccia se vi piace ricordatevi di lasciare un like di supporto e cominciamo subito con il relax 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 90 97 97 90 95 90 95 90 novantaquattro 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 novantadove novanto novanto novantaquattro novantaquattro otto otto set otto 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 quattro otto tre ottanta ottanta ottantuna e ottanta 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 settantanove ottantanove otto 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 5 75 74 73 73 73 72 72 71 71 71 71 71 70 70 71 71 78 71 71 72 72 72 74 72 73 74 74 sessantacinque sesantaquattro se santaquattro sesantatres sesantatres sesantatru sesanta sessanta cinquantanove 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 cinquantano cinquanta sei cinquanta sei cinquanta cinco cinquanta cinco 55 55 54 54 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 50 50 50 50 50 50 50 50 49 50 50 50 50 50 50 50 50 dai 42 42 42 42 41 e 40 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 41 30 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 1 31 30 30 34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 37 37 37 37 26 26 26 25 25 24 23 23 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 22 21 21 20 20 20 20 19 19 18 17 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 15 15 15 16 16 16 17 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 21 22 3 3 3 3 3 2 1 3 3 e penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio si aggiunta allora abbassate le luci e augurarvi 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 una buona 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 notte soñitor good night sweet dreams buona buona notte dolce sueñas buon nuit buon nuit buon nuit bene spero questo video vi sia piaciuto e questo camera brushing con questo pennello che amo vi abbiamo fatto chiudere gli occhi in tempi record io vi ho amato un fazzone che li spera buona 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 buona